Che proprio significa il momento della vicinanza, perché di fatto era costruito insieme per aiutare le famiglie italiane. È commovente sentire la... come si chiama? Pierre Scherpener che racconta questa storia, perché lì c'era un momento in cui la nazionalità, cioè c'erano dei valori umani che sono la base di tutti. E la terza cosa è anche qui un passaggio sempre sulle parole. No, è lo stesso rifugio visto dall'alto. Allora, secondo noi, noi siamo stati molto orgogliosi di averlo ricevuto, questo pensiero, però credo che sia giusto che Acceglio lo tenga, perché Acceglio è il riferimento, credo, da dove partivano. Cioè, immaginate tutta questa gente che partiva anche dalla valle e andava in là, si fermavano, credo, già Acceglio, magari un nome che afferma qualcos'altro. È un pastizio. È un pastizio. Quindi io lo accedo volentieri. Grazie. Grazie.